allora il punto scambiato che vi ho fatto vedere prima che questo si può fare anche a 2 cioè io qui vi ho fatto vedere che si fa facendo un una maglia bassa una maglia alta una maglia bassa una maglia alta e poi scambiandosi di posizione ma si può fare anche con 2 maglie basse 2 maglie alte 2 maglie basse 2 maglie alte sempre scambiando poi da un giro all'altro la posizione quindi dove c'erano sopra le due maglie alte si fanno le due maglie basse e viceversa adesso ve lo faccio vedere giusto un attimo ma è molto semplice vedete io qui ho finito il giro con due maglie basse e quindi adesso farò le mie due catenelle che sono la prima maglia alta più un'altra maglia alta nella seconda poi io qua sotto o due maglie alte quindi farò due maglie basse vedete è proprio semplicissimo con punto ecco qua ancora quindi una e due maglie alte e una e due maglie basse ecco semplicissimo il risultato vedete molto simile non c'è tantissima differenza vedete un po voi se vi piace di più uno all'altro